Dopo aver parlato delle operazioni tra polinomi, andiamo a vedere alcuni esempi particolari di prodotti notevoli da ricordare a memoria. Sono sostanzialmente prodotti tra polinomi che possono essere utilizzati nelle semplificazioni per ridurre dei polinomi in forma normale e in forma ridotta. Allora, il primo prodotto notevole è il prodotto di somma per differenza. Allora, vediamo che A meno B per A più B è uguale a, dunque sappiamo che si fa A per B e A per A. E poi abbiamo detto B per A e B per B, cioè il prodotto dei termini 1 a 1. Quindi questo alla fine porta al seguente risultato, A al quadrato più AB meno BA più BA al quadrato. Ma siccome AB e BA sono uguali, si semplificano e quindi alla fine ottengo A al quadrato più BA al quadrato. Quindi questo è il primo prodotto notevole da ricordare, cioè sostanzialmente mi ricordo il salto A meno B per A più B è uguale ad A al quadrato più B al quadrato e viceversa. Cioè se mi trovo in questa situazione posso tornare indietro a quest'altra situazione e molto spesso mi può essere utile. Vediamo un altro prodotto notevole, molto utile, è A più B al quadrato, cioè tutto al quadrato. Quindi come se fosse A più B per AB, giusto? Quindi anche qui svolgo il prodotto e mi viene quindi A al quadrato più AB più BA più B al quadrato. Ma questo è uguale a che cosa? È uguale ad A al quadrato più 2AB più B al quadrato, giusto? Sommando questi due monomi. Anche qui, da questo polinomio a tre termini, posso passare indifferentemente al polinomio A più B moltiplicato al quadrato, cioè elevato al quadrato tutto. Molto simile, e quindi facile da ricordare una volta che si sa il primo, quello precedente, è A meno B al quadrato. Che sostanzialmente, vediamo che è A più B per A meno B, che è uguale ad A al quadrato meno 2AB più B al quadrato. Lasciatemi saltare le semplificazioni. Allora, come si vede, sostanzialmente la differenza è un meno nel termine misto, 2AB, ed è quindi facile da ricordare. Anche questo, appunto, è intercambiabile. Ci sarebbe anche il prodotto notevole di un trinomio, che possiamo vederlo così, A più B più C, no? Cioè, un polinomio a tre termini al quadrato. Ma questo è uguale a, andiamo un po', perta quadra, più C al quadrato. Quindi, ritorniamo sostanzialmente in questo caso. Ok? Quindi, svolgiamo questo prodotto come se fosse A più B al quadrato, e quindi ci avvaliamo della formula, ecco che si vede com'è utile, della formula del prodotto notevole A più B al quadrato, e scopriamo che è uguale a A più B, quindi A al quadrato, più 2A più B per C, giusto? Misto, più C al quadrato, adesso svolgiamo questo, ma questo lo sappiamo già svolgere, quindi avviene A al quadrato, più 2A più B al quadrato, più, Svolgiamo questo prodotto, 2A più C al quadrato, ma quindi, allora viene sostanzialmente, rimettendo un attimo a posto, risistemando i termini, A al quadrato, più B al quadrato, più C al quadrato, più tutti i termini misti raddoppiati, quindi, 2AV più 2AC più 2BC, facile da ricordare se si conoscono gli altri due prodotti notevoli, A più B al quadrato, A meno B al quadrato, quindi, utile anche questo, anche questa, diciamo, formula, che mi dà direttamente il risultato del quadrato di un trinomio. Abbiamo anche, in ultimo, il cubo di un binomio, cioè A più B al cubo, quindi, questo qui è, che cos'è? Altro non è che A più B al quadrato per A più B. Beh, A più B al quadrato lo sappiamo cos'è. È A al quadrato più 2AB più B al quadrato per A più B. Ma quindi, questo, che cos'è? Facendo il prodotto membro a membro, viene A al cubo, più A al quadrato più B al quadrato più A al quadrato più A al quadrato più B. più 2A al quadrato più B più 2AB al quadrato. Possiamo semplificare ulteriormente questa, poiché si vede che questo monomio e questo monomio sono simili, mentre invece abbiamo questo monomio e questo monomio, che sono simili. Quindi possiamo ulteriormente semplificare, arriveranno arrivando A al cubo più B al cubo più 3AB al quadrato più 3A al quadrato B. E questo è abbastanza semplice, anche semplice da ricordare, se vogliamo. Quindi questi tre prodotti notevoli, in qualche modo, ci aiutano a semplificare le nostre espressioni. Poi faremo un esempio, o due, per chiarire esattamente cosa significa negli esercizi utilizzare questo tipo di formule, no? Per semplificare molto i nostri calcoli, che comunque possiamo svolgere nella maniera in cui sappiamo usando le normali operazioni tra polinomi. Tuttavia, sfruttando questi prodotti notevoli, e quindi queste formule, si possono semplificare i calcoli facendo delle, come dire, delle astrazioni, ma in realtà facendo dei raggruppamenti e poi degli sviluppi. Ma vedremo meglio negli esercizi che cosa significa questa cosa.